Per giovedì. Una dimenticanza nel completare la pratica per il rilascio del permesso in ZTL può costare davvero cara. 10.000 euro è una bella crisi di nervi. Ne sa qualcosa una disoccupata napoletana, la signora Raffaella Tofani che di multe ne ha collezionato un centinaio nell'ultimo mese, roba da Guinness dei primati. Non perché le di multa, come già ribattezzata, la signora si faccia beffa delle regole. È successo infatti che pur avendo regolarmente pagato i oneri per circolare nella ZTL del centro storico di Napoli, non abbia mai completato l'iter saltando un passaggio decisivo, quello dell'inserimento della targa nella sua moto nel sistema che divide gli autorizzati dai trasgressori. Una dimenticanza in buona fede, si difende la signora che ora assistita dall'avvocato Morici si è messa in regola con le multe ma continuano ad arrivare. Mi appello al sindaco, dice non ho i soldi per pagare, posso solo lavorare gratis per salvare il debito. Ma fermi quest'incubo. Iniziano ufficialmente l'operazione d'ingresso negli appartamenti realizzati a Via Gobetti, a Via Labriola e alla Piazza della Socialità per le sette famiglie che traslocheranno dalle vele di scampia, precisamente dalla vela verde e da quella celeste verso case nuove di Zecca e anche verso una nuova vita lontana dal degrado di quei giganti malmessi e pericolosi delle vele di scampia. Nell'ordinanza che il Comune ha previsto per le operazioni di trasferimento viene fatto infatti esplicito di vieto di trasportare le superlenti lungo le passarelle e le scale. Sarebbe troppo pericoloso e i traslochi possono essere effettuati soltanto utilizzando fedane e levatrici. Si ferma il calo del PIL del mezzogiorno durato ben sette anni consecutivi. In base alle valutazioni dello Svimex, la presentata nel rapporto sull'economia del mezzogiorno, nel 2015 il PIL è cresciuto al sud dell'1%, recuperando parzialmente la caduta dell'anno precedente con una crescita. Superiore a 0,3% è quello elevato nel resto del paese di 0,7%. Dal 2007, secondo lo Svimex, il PIL in quest'area è calato del 12,3%, quasi il doppio della flessione registrata nel centro-sud. La crescita nel sud ha beneficiato nel 2015 di alcune condizioni peculiari. Una nata agraria particolarmente favorevole, la crescita del valore aggiunto nei servizi, soprattutto nel turismo, legata alla crisi geopolitica nell'area del Mediterraneo, che hanno dirottato parte del flusso turistico verso il mezzogiorno e la chiusura della programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013, che ha portato a un'accelerazione della spesa pubblicata al loro utilizzo per evitarne la restituzione. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casoria hanno arrestato in flagranza per furto in abitazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale cinque uomini di etnia Roma, tutti domiciliati presso il campo nomade di via San Salvatore a Casoria e tutti i gennoti alle forze dell'ordine sono stati fermati dai carabinieri per un controllo, mentre si trovavano a bordo di un'auto, ma non hanno rispettato l'altra. Né nato né in seguimento, i fuggitivi sono stati bloccati grazie all'intervento di altre pattuglie dei carabinieri giunte in supporto. I militari hanno rinvenuto nell'auto gioielli d'oro, bigiotteria, guanti, scaldacollo e numerosi attrezzi da scasso. I gioielli sono risultati rubati poco prima in un'abitazione di una trentenne di capua, la cui refurtiva e poi a cui la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Gli arrestati sono stati tradotti nel carcere di Santa Maria Caporitere. E 15 anni fa la partita di addio al calcio per Diego Armando Maradona, la bombonera di Buenos Aires, scesero in campo alla nazionale argentina a una selezione di campioni, ma i 50.000 sugli spalti erano naturalmente tutti per il pibe d'oro. Nella mare di cartelli e striscioni uno diceva da Salerno 18.000 km solo per Diego. Fu una serata memorabile, su due maxi schermi le tappe della carriera del campione, i suoi gol e le sue azioni più belle. L'ex re di Napoli pianse a lungo nel dopo partita, vi prego, disse poi, fate che questo amore non finisca mai. Il pibe d'oro fece grande anche il Napoli per sette anni, fra il 1984 e il 1991, guidando gli azzurri alla vittoria di due scudenti. E' tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento, tornandolo a circa più tardi.